Bentornati a Pillole 81. Oggi continueremo a parlare dell'articolo 2, l'articolo delle definizioni. In particolare andremo a parlare di linee guida, buone prassi e norme tecniche. Partiamo dalle norme tecniche. Le norme tecniche cosa sono? Sono dei documenti in cui c'è scritto come far bene una cosa. Abbiamo norme internazionali, europee e nazionali. In particolare in Italia abbiamo le Uni, in Europa le EN e quelle internazionali sono le ben più famose ISO. Le linee guida sono solitamente una serie di raccomandazioni fatte da enti nazionali come l'INAIL. Un tempo spesso le faceva l'ISPERS. Le buone prassi sono invece delle pratiche che si sono rilevate molto buone per migliorare la sicurezza dei laboratori. Ahimè le norme tecniche non sono gratuite, ogni tanto però vale la pena comprarne qualcuna. Per quanto riguarda le linee guida e le buone prassi sono solitamente gratuite. Quando non conosco molto bene un argomento scrivo il nome dell'argomento a fianco a linee guida e poi cerco su Google. Così posso consultare lo stato dell'arte. Le buone prassi le troviamo anche sul sito del governo. Spero che questo video vi sia stato utile. Buona giornata a tutti e un caro saluto da Matteo Massironi. Ciao!